Due su due, che sofferenza nel primo tempo un Pescara che ha chiaramente dominato il match nella ripresa? Sì, sono d'accordo, ci aspettavamo una pistoiese in palla, con qualità, con una buona proposta e così è stato. Abbiamo sofferto, sì, siamo in vantaggio forse con la prima occasione che abbiamo avuto, un grande gol di Dursi. Mi piace sottolineare magari la grande fase di non possesso, si sono sacrificati tutti. Molto rispetto per l'avversario, sapevamo che affrontavamo una squadra che in casa voleva fare il bottino pieno, vista la classifica. Sono contento per il secondo tempo, perché abbiamo proposto anche un buon calcio, con delle buone trame di gioco. Alleno dei giocatori bravi e oggi hanno fatto, soprattutto nel secondo tempo, una grande partita. La grande novità del Pescara di Luciano Zauri è la facilità con la quale riescono a esprimere le qualità, Dursi da un lato, Clemenza dall'altro. I meriti sono dei ragazzi, frase fatta, ma ripeto, sono giocatori bravi, hanno voglia di fare, ma dal primo all'ultimo, loro due, ma anche tutti quanti gli altri, si sono messi molto a disposizione. Ci si allena bene, quindi insomma, gli faccio i complimenti a tutti, anche se ovviamente non abbiamo ancora fatto niente. Le scelte, hai sorpreso un po' tutti, anche se poi questa settimana avevi provato questa difesa 3, perché non stavano bene tutti gli interpreti del centro campo, perché è un concetto su cui vuoi lavorare? Entrambe le cose, guardando un po' la rosa disposizione, tracciacchi vari, ho pensato che potesse essere un modulo interessante anche per le caratteristiche dei ragazzi. Al primo tempo Gerardi ho dovuto sostituirlo per rivedere l'ammunizione, avremmo rischiato forse oltremodo il suo giallo. Ianesi è entrato alla grande, per cui insomma hanno fatto secondo me bene. Ti chiedo una cosa, se sei d'accordo che per caratteristiche, è vero che c'era l'emergenza, soprattutto sugli uomini a centro campo, ma probabilmente Cancellotti e Frascatore hanno più caratteristiche difensive, nel 3-4-3 ci vorrebbero i giocatori alla Zappella? Sì, ma dipende molto anche delle due, la doppia fase, possesso o non possesso, credo che oggi sia Cancellotti che Frascatore abbiano fatto un'ottima gara. L'unico rammarico è non avere Zappella, perché comunque sia sarebbe un'alternativa a Cancellotti, quindi più ne ho meglio va per poter scegliere. Ti chiedo un'ultima cosa, prima delle domande da studio, scavalcata all'Intella, al quarto posto restano 90 minuti per provarci con il Cesena, ma non dipende solo da voi. Esatto, non dipende da noi, però noi penseremo a fare il nostro, ovviamente, quindi cerchiamo di portare a casa anche l'ultima partita e poi guarderemo gli altri campi. Auricolare per Luciano Zauri, Massimo che ti ascolta, puoi fare una domanda al tecnico Biancazzurro. Sì, io faccio intanto i complimenti a Luciano Zauri, due vittorie in altre tante partite, però la domanda la faccio fare naturalmente a Fabio Ferraresi. Ciao mister, anch'io ti faccio i complimenti, due vittorie in pochi giorni e tanta roba, come si dice. No, prima facciamo una considerazione, non so se tu sei d'accordo, rispetto alle partite che magari hai visto in tv, che ne avrei viste parecchie del Pescara. Io oggi ho visto una squadra, rispetto a tantissime altre partite che ha fatto, con tanto ritmo, con più ritmo, con più gamba, più aggressiva. Tu dal campo sicuramente l'hai vista meglio, se quello che dico è vero dal tuo punto di vista. Ciao Fabio, intanto. Beh guarda, io posso giudicare ovviamente da martedì in avanti, quindi sono contento, i ragazzi sono messi tutti a disposizione, tutte le proposte che sono arrivate da me e dal mio staff le hanno accettate di buon grado, grande sacrificio, grande predisposizione al lavoro, quindi credo che questo sia a merito loro. Poi è chiaro, quando si incastra, come si dice, le cose vanno. Insomma, a me piace vedere una squadra che stia sul pezzo, come si dice, no? Quando giocavo ero così, mi piacerebbe vedere la mia squadra che applichi quel tipo di caratteristiche che avevo io quando difendevo. È chiaro che ci vogliono le qualità degli altri, perché con le mie qualità quando giocavo faremmo poco. È modesto Zauri, ti saluto chiedendo di questo. Luciano, hai detto della munizione per la sostituzione di Gerardi, però forse anche per caratteristiche, per rapidità di Bocic, di Massimo e per il ritmo che aveva la Pistoiese, Izanes aveva caratteristiche migliori. Sì, però Mario si è allenato benissimo, quindi non ho fatto fatica a schierarlo. È chiaro che anche Izanes veniva da tre allenamenti con la squadra, per cui era un giocatore non pronto per poter fare 90 minuti, ma credo che entrambi abbiano fatto una buonissima partita. Ripeto, siamo contenti, poi ha fatto anche gol.